Maggio chiude l'Essipario sulla prima parte e svela i nomi di quella che sarà la seconda offerta di spettacoli della stagione capitale della prosa al Teatro Rossini fra l'anno di Grazia 2024 e lo sconfinamento fino alla primavera 2025. Nove spettacoli in abbonamento più due progetti speciali. Si comincia il 10 ottobre con il regista Andrea Baracco che porta in scena Mephisto, romanzo di una carriera. Si continua con il ritorno del musical gris della Compagnia dell'Arancia. E ancora l'ultimo spettacolo di Emma Dante e Re Chichinella e a varcare il 2025 sarà la commedia di Vanessa Incontrade e Gabriele Pignotta con Disposo ma non troppo. Poi il regista tedesco Peter Stein che porta a crisi di nervi tre atti unici di Anton Chekhov e ancora Gabriele Lavia con Lungo viaggio verso la notte, Ferdan Ospeta con magnifica presenza, Elio con Quando un musicista ride fino alla chiusura di aprile con Casanova di Condemi. Continuiamo a chiamare la stagione capitale ma a pensarla come stagione capitale con l'idea che la circostanza della capitale della cultura ci faccia fare ancora di più sintesi tra i generi diversi, convocando a Pesaro il meglio del teatro italiano a partire naturalmente dal grande teatro di regia. Quindi diciamo continuiamo per la seconda stagione a in qualche modo allargare lo sguardo. Quest'anno ancora di più perché aggiungiamo due progetti speciali accanto ai novi titoli in abbonamento sempre per le quattro recite e due progetti speciali molto speciali, uno è molto speciale emotivamente anche per noi perché è l'ultimo progetto che debutterà qui di Glauco Mauri alla Chiesa dell'Annunziata, un omaggio a questo volto del teatro che fa la sintesi di storia è presente e poi un ritorno di cui siamo molto felici di Alessandro Baricco che torna a raccontarci le sue scritture anche in scena. Quindi appunto nove titoli in cui abbiamo cercato come sempre, devo dire quest'anno in maniera ancora più larga perché siamo riusciti con gli amici dell'Arancia a rifare una proposta anche di musical e riportiamo Gris che segna ha superato i due milioni di spettatori, è un cavallo di battaglia e poi davvero tanto tanto teatro. Grazie Grazie Grazie